Se vi ricordate, fino a pochi mesi fa si parlava di console war, un video sì, e anche un altro qui su YouTube. E tutti stavano facendo video in continuazione e poi improvvisamente i temi, ma soprattutto i video, si sono importantemente silenziati. Questo cosa vuol dire? Che non esiste più una console war? Assolutissimamente no, ragazzi! Vuol dire semplicemente che noi YouTuber facciamo pochi video in merito, ma la console war è sempre aperta e ogni qualvolta ci sia la possibilità di mettersi in mostra, Sony e Microsoft mettono in delle belle immagini tutto quello che sono riuscite a fare nella current gen e senza ombra di dubbio. PlayStation 5 e Sony sta facendo davvero i grandi numeri, insomma sta vincendo la console war in termini di vendite in maniera bella e importante. E sebbene, come vi dicevo, i temi si siano un pochettino rilassati, non si parli così tanto di console war, una cosa è certa. Nell'ombra, una specie di guerra fredda, si sta ancora consumando, perché ovviamente sia una sia l'altra controparte stanno creando quella che si chiama mid-gen. Essenzialmente quelle console che arrivano dopo 3-4 anni dal lancio della console principale e che presentano delle caratteristiche particolari. Esiste la versione slim, quella ottimizzata, più piccola, e poi esiste la versione pro, quella più potente, che insomma presenta qualche feature simpio. E proprio pochi giorni fa è emerso online delle dichiarazioni belle e importanti, secondo la quale Sony, per la sua PlayStation, stia per lanciare la nuova PlayStation 5. Però, e ovviamente neanche a dirlo, quando vengono fuori delle news del genere, il mondo di Twitter, il mondo dei videogiochi, e soprattutto la console war, monta ancora di più. E sono emerse delle spec per quanto riguarda PlayStation 5 Pro. Quest'oggi noi non entreremo nel dettaglio di quelle specifiche, anche se appena appena le accarezzeremo, ma saremmo qui come videogiocatori a chiederci e a domandarci Cosa deve presentare PlayStation 5 Pro? Cosa deve regalare ai videogiocatori? Cosa deve migliorare Sony nella sua console? Ma soprattutto quanto costerà? Che features ci darà? Tanto, davvero tanto c'è da dire. Non tanto le specche in termini di potenza, teraflops e velocità. Quanto al videogiocatore, alla fine della fiera, questa PlayStation 5 Pro converrà o non converrà? Lo scopriremo qui, in questo video. Benvenuti su Top of Gaming. Allora, parliamo immediatamente faccia a faccia. Io e te senza filtri, senza niente, dobbiamo dirlo. Le attuali console di attuali generazioni devono ancora mostrare i muscoli. E' vero, ci sono molti titoli belli. E soprattutto per quanto riguarda Sony e PlayStation, le sue esclusive sono, a dir poco, strabilianti. Xbox ha fatto bene, non eccelso. Ok? E c'è anche un'altra cosa da dire sulla current gen. Si parla di tanta potenza, eppure vediamo pochi titoli che sono stati in grado di gestire questa potenza. Basti pensare semplicemente ai titoli che sono in grado davvero di far andare i videogiochi in 4K, 60 frames per second. Basti pensare a titoli che escono, come Cyberpunk, come tanti altri videogiochi vari ed eventuali, che poi non vengono neanche supportati per quelle risoluzioni, ma soprattutto non sono ottimizzati e in alcuni momenti della vita di noi videogiocatori le console ci remano contro, come ad esempio la grandezza degli hard disk. Ecco, in base a questa piccola premessa che vi ho fatto, c'è, e vi sarete accorti che voglio dire una cosa, che le console attuali sono enormemente potenti. davvero tantissimo, e c'è da dire che però titoli come Demon's Souls, Ratchet & Clank e tanti altri videogiochi appunto del mondo Sony PlayStation, anche se espressamente creati per PlayStation 5, il 4K a 60 frames per seconde attualmente non riescono ancora lontanamente a vederlo. Molte altre software house non arrivano neanche a sviluppare i videogiochi in quella risoluzione. E c'è anche un'altra cosa da dire su Sony PlayStation, è che sta vincendo la console war con tantissimi pezzi, tantissimi pezzi, milioni di console vendute. E le persone sono ancora adesso disposte a pagare 50-60 euro in più per portarsi a casa Sony PlayStation 5. Perché il quantitativo è limitato? E perché obiettivamente... molti di noi devono ancora passare alla next gen. Perché? Perché non ci sono ancora tutti quei videogiochi esclusive per quel mondo che ti dicono, sì, devo per forza comprarla. Molti titoli, ancora attualmente, vengono sviluppati sia per le old gen, sia per le current gen. Morale della favola, le console attuali sono potentissime, non gestite, non ottimizzate e Sony PlayStation per alcune sue esclusive, per alcune sue patch di trasformazione da PlayStation 4 a PlayStation 5 sta facendo i capricci, molti capricci. Basti pensare a The Last of Us e Bloodborne, titoli che io qui vi ho parlato è che Sony PlayStation non ha neanche lontanamente portato avanti con una patch per poterle passare da una console all'altra. Ma adesso arriviamo alla motivazione del perché Sony PlayStation dovrebbe fare una sua PlayStation 5 Pro. E appunto per quello che vi dicevo qualche secondo fa. Sebbene le console siano estremamente potenti, sebbene una parte sia dovuta alla scarsa ottimizzazione dei videogiochi, c'è anche da dire che in alcuni titoli come appunto Cyberpunk o in alcuni altri titoli più grandi, Open World, e beh, proprio tecnicamente, per via delle caratteristiche tecniche della macchina, non si potrà raggiungere neanche lontanamente il 4K a 60 frame per secondo. Ci riesce a raggiungerlo un pochetto meglio Xbox Serie X. Non così tanto bene, ma sicuramente alcuni titoli tendono a spingersi, molti di più tendono a spingersi verso quella risoluzione, quei frame. Ora, Sony PlayStation potrebbe voler davvero arrivare, anche lei a dare la possibilità a tutti e a tutti i videogiochi, di arrivare a quella risoluzione, a quel frame, ma soprattutto iniziare a puntare anche all'8K. Sembra impossibile, è vero, ma le TV 8K iniziano a estendersi, a entrare nei nostri soggiorni. È vero, sono estremamente costose, avete perfettamente ragione, ma c'è già un piccolo pool di persone che se le possono permettere che vorrebbero dei contenuti in 8K. Morale della favola, se dovessi creare una PlayStation 5 Pro, probabilmente la vorrei che arrivasse in 4K a 60 frame per second. Per tutti i videogiochi, di qualsiasi disinenza, open world, sfaccettature, gameplay, essa possa dare. Ma soprattutto che in alcuni titoli, magari quelli più piccoli, quelli più, no? Quelli più leggeri, si potesse arrivare all'8K. Un piccolo sogno, ma ovviamente è il prossimo grande passo. Leggendo le specco online di che cosa dovrebbe portare al suo interno PlayStation 5 Pro, si parla ovviamente di una frequenza di clock di quasi 4 GHz, si parla sempre delle CPU Zen 2, si parla di una GPU con 32 work ground processor, che ha un overclock di ben 2800 MHz. Insomma, stiamo parlando di un macello importante di potenza, ok? Potenza che, vi ripeto, espressa così, ci dice tanto, come ci dicevano tanto quei confronti tra Xbox e PlayStation da io ne ho 12, tu ne ho 18, io ne ho 20, tu ne ho 19, morale della fama, alla fine della fiera, al player. Questi numeri sono soltanto numeri e non riesce davvero ad afferrarli con chiarezza. E senza ombra di dubbio, una delle cose su cui però le spec che sono emerse non hanno detto A, non c'è scritto niente ragazzi, niente online, e la cosa mi fa davvero infuriare è la grandezza dell'hard disk, perché l'hard disk di PlayStation 5 e di 1 Tera in realtà è occupata per ben 120 giga da ciò che è il sistema operativo, quindi a vostra disposizione ce ne sono solamente 860-870. Morale della favola, molti di voi lo sanno e si sono dovuti attrezzare per comprare, pensate, un hard disk esterno, che Sony e anche Microsoft, ovviamente, vi hanno fatto pagare a peso d'oro. Appunto, come dicevo, non è stato detto assolutissimamente niente per quanto riguarda un aumento di quella determinata caratteristica, l'unica, che forse il videogiocatore medio può comprendere, applicare a cose che sa e che gli può essere davvero di grande utilità. Io ovviamente, per non saperne leggere né scrivere, mi sono fatto un giretto su Amazon e ho scritto SSD da 4 tera. Indovinate cosa è venuto fuori dei prodottini di all'incirca 90 euro. Se Amazon Boxate riesce a farmi un SSD da 4 tera, io chiedo e mi domando, una multinazionale, come Sony, secondo voi, quanto può pagare un hard disk da 2, 3, 4 tera e immetterli all'interno della console? Ci farà pagare solo e solamente questi enormi boost di potenza, quei 2 teraflop aggiuntivi di potenza? No, perché se fosse solo per quel fattore di potenza, allora io dico, allora, PlayStation 5 Pro non meriterebbe di essere comprata. Perché? Perché i caricamenti sono già abbastanza veloci, perché molti di noi, essenzialmente, e molti sviluppatori, Electronic Arts, Ubisoft, non creano i loro videogiochi in 4K a 60 frame per secondo, perché non gliene frega niente, perché ottimizzare è difficile, perché è molto più facile fare patch correttive e soprattutto giocare a fluidità alta, quindi 60 frame per secondo in 4K, può servire solamente in alcuni videogiochi, non di certo in titoli single player oppure giochi di ruolo alla Baldur's Gate o altri titoli vari ed eventuali un pochetto, no? Non esattamente frenetici. Insomma, voglio ricapitolare, se dovessi farmi pagare solamente quei 2 teraflops, ma poi il giocatore medio non se ne accorgerebbe, o comunque ci sarebbe solamente un po' di carico più veloce delle texture, qualche effetto ray tracing un pochetto più marcato, perché c'è da dirlo, le console attuali c'erano state vendute come capaci di gestire il ray tracing nei nostri videogiochi. Se lo provate, il ray tracing all'interno di Watch Dogs, all'interno di altri titoli Ubisoft, all'interno anche di Cyberpunk 2077 sulla vostra console, vi assicuro che il 4K quasi quasi ve lo sognate. Morale della favola è una tecnologia davvero molto esosa in termini di potenza e diciamolo che il beneficio del ray tracing tra il basso e l'alto non è questa grande cosa da farvi spendere tanti soldi. Quanti soldi si parla? Beh, si inizia a pensare che PlayStation 5 Pro potrebbe costare intorno ai 480 euro. Morale della favola, se ci trovassimo di nuovo in una condizione terribile nella quale queste console poi vanno a ruba, come adesso è ancora difficile abbastanza trovare la nostra PlayStation 5, potremmo trovarci con anche dei prezzi che vanno verso i 500 e passa euro. Ed è lì che dico ma perché comprarla? Per un po' di ray tracing in più? Per della velocità in più? Per una RAM in più? Per due teraflops di potenza in più? Sono tutte cose poco tangibili, ribadisco, poco tangibili da parte del player. Io sono qui in questo preciso momento a dirvi non è una macchina da comprare assolutissimamente no, vi sto semplicemente indicando che se devo fare un upgrade della macchina la macchina deve scaldare meno, deve essere ottimizzata, deve permettermi di ottenere sempre i 60 frame per second, mi deve permettere sempre di mettere il ray tracing nei miei videogiochi, mi deve permettere di fare uno storage più alto dei miei videogiochi. Le console attuali sono potentissime, e continuo a ribadirlo, sia per una parte sia per l'altra. Morale della favola? C'è solamente una cosa che dobbiamo considerare. Se PlayStation 5 uscisse davvero, il player, in che cosa ne guadagnerebbe? Qualche secondo di caricamento? Un po' di ray tracing? Perché invece non ci soffermiamo su altre cose molto più importanti? Grandezza, servizi, ottimizzazioni, giochi, che da PlayStation 4 arrivano finalmente a PlayStation 5, titoli meglio ottimizzati, meglio di Frostpunk, giusto per farvi un esempio, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ragazzi, ovviamente questi sono semplicemente dei discorsi che facciamo io e voi. Attualmente, dell'arrivo di PlayStation 5 Pro non ne sappiamo niente, non è stato comunicato niente. io sono qui a fare l'avvocato del diavolo, io sono qui a parlare ai videogiocatori, ai player che come me hanno un po' fatica a arrivare a fine mese, perché un videogioco costa 70 euro e alla fine della fiera il videogioco non è neanche ben ottimizzato. Non perché la console non è potente, ma perché gli sviluppatori non ci hanno messo abbastanza interesse per creare bene quel titolo. Cyberpunk è l'esempio palese, me ne abbiamo da Frostpunk un altro esempio palese, eccetera, eccetera, eccetera. Morale della favola, la mid-gen merita ancora per una parte e per l'altra di esistere? Merita davvero i nostri 80 euro in più? Merita davvero l'attenzione dei player? Sony, giocatela bene perché io ti avverto sono un player, sono un player squattrinato e quando compro una macchina almeno devo sentire qualcosa di palese nelle mie mani, devo davvero misurare quegli 80 euro con delle features più importanti, più uniche e più maxate rispetto appunto alla versione base. Ma io sarò qui ovviamente nei prossimi video a raccontarvi ciò che Sony e Microsoft vogliono fare per la loro mid-gen. Io spero vivamente che questo video io e te davanti a un Prosecco vi sia piaciuto, se così fosse il like con iscrizione e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao! Ciao!